io non devo fare una beata miglia perché tengo più di 60 anni no regà no regà è gold oh my god avete sentito bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di fortnite oggi ragazzi siamo su salva il mondo per andare a testare una nuova cosa un nuovo format che si chiama e si intitola la prova di fiducia ovviamente dei miei iscritti siamo con infernal e oggi raga andremo a testare la fiducia che hanno i miei fan nei confronti di me medesimo guardiamo chi entrerà e guardiamo ovviamente se rispetterà anzi se ci rispetterà in realtà raga infernal farà finta di essere uno che voleva scambiare con me ma in realtà lo convincerà a truffarmi e guardiamo un po' cosa saranno le loro decisioni vi ricordo raga di iscrivervi al canale e di attivare la campanella mi raccomando un bel like trovate i link di dei social canale youtube quello che vuole inferno li trovate tutti in descrizione andiamo vai let's go vabbè regà questo qui è quello che vi aspetterà se entrate nel coso nelle live di salva il mondo give e anche tutto questo regà quindi vi consiglio di entrare vediamo se qualcuno di loro entra una questo va sembra al bagno usciamo unito qua e che sta fermo o baffo baffo ciao vogliamo truffare le cose andate guarda chiamato farglione fra i dati prego da una domanda a fare i dati prego tendo quello non ci sa ora tranquillo io lo volevo a truffare però tu lo vuoi fare le baffo guarda io mi prendo un'arma anzi due così sono un'arma anzi due così sono un'arma a truffiamo noi se io purtroppo non posso perché l'inventario pieno erogeno pieno ma tu sei un giù iscritto a siamo già iscritto no trovai truffiamole guardate il truffatore come si sente essere il truffatore baffo e niente raga e niente se è levato dai coglioni oddio mio raga 5 minutes later allora non è che ce le devi dare proviamo a vedere se ce le ritroppi quello su questo se ce le ritroppi vuol dire che se se ce le ritroppi tutte vuol dire che ci possiamo fidare troppali qua baffo troppali qua baffo troppali qua tutte fidati ti fida adesso di me no aspetta ragazzi aspetta una alla volta una alla volta dove spelli baffo drop senza dilaggare a a alfa 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 alfabeto i a i a i a i a i sono raga no raga gold vabbè si aspetta raga aspetta davanti al bagno i permessi levate tutti arrivo e torno subito bella inferna ma lo facciamo ancora ragazzi ma date poco uno stupido stupido vogliamo truffare ragazze troppo in sacco di anni lo vogliamo truffare ma ch'è che sta parlando inferno ci sono inferno dovevamo truffare la tab ma per finta però no 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 io voglio truffare cavata franti ti muovi però tu che sei bilancio una gran gamer grandi ecco poi vogliamo truffare gli armi riva io sono l'olumentario pieno a tenerezza ho una coutura a me c'entra bilancia no era un video fiducia comunque per me oddio mio raga avete visto proprio il partito no ma che è un video fra un video dai te ti siamo portato bene bene tieni fra tieni fra piglia pure che gamer raga è ci si può fidare di che gamer lui non trufferà mai giuro eccolo raga il rango 5 guardate lezzo proprio guardate che pionno raga no no io una l'ho presa e mi va bene dai piglia piglia proprio piglia non mi vedi se mi ritrovano piccolo pigamero ecco prendi il giudice aspetta aspetta non mi farò un ballo credo e che mi ero chiesto di che c'è il costo troppo non ti vuole dare anche dico parla è molto antico e ci si giunge un'arma bene per me ok aspetta fra vado un secondo in bagno arrivo subito mi hanno chiamato arrivo subito francesco 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 di farlo francesco 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 daniele armi ho ho e franpi lo ho preso lui chi si v its francesc o inferno cazzo sei druppatore non sa spazio cambiale francia chi l'ha preso non hai permesso che ce l'hai ho visto adesso appunto vedi fammi dire se l'ho messo ora c'è il primo faccio che vuoi sapere da te chi l'ha preso vi stesse mio scritto mi chiedo di più chi l'ha preso e allora chi la si si le ha preso il gioco ma sono scomparso francesco ci stava qualche bug francesco vabbè dai se stavo sincero che anni dai madonna un accidente a questo gioco è buggato so che non mi soffresti mai francesco tieni aspetta vieni qua per sicurezza raga non peraltro vieni qua infernal va qua e franci vieni qua potete troppare potete troppare il vostro inventario guarda tanto il leader è inferno avevi permessi guarda ecco aspetta io qui no 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 non quitti non quitti io qui sta bello francesco sto recando eh sto recando lo dico se non droppi inventario può darti che sei se il truffatore io non troppo una beata minchia perché tengo più di 60 anni e vabbè e vabbè e vabbè mio dio ragazzi io non troppo una beata minchia vai io questa è la nuova cosa del canale di tagge io non troppo una beata minchia gomba maiala detto questo raga io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale di eh infernal trovate il link in descrizione e iscrivetevi anche al canale da dove ovviamente per non perdere le prossime live di chi vi salva al mondo raga cosa vi aspetterà cosa vi aspetterà a tutti voi ovviamente quindi mi raccomando raga un bel like una bella iscrizione noi ci ciao 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 ciao